Continuano gli incontri promossi dall'AMI, associazione avvocati matrimonialisti. Dopo l'appuntamento presso il Museo del Sannio di Benevento, l'associazione ha tenuto un nuovo meeting a Salerno presso il Salone del Gonfalone del Comune, dal titolo Cartellino Rosso alla violenza sulle donne, prevenzione, sensibilizzazione e forme di tutela. Nel corso dell'incontro è stato trattato il delicatissimo tema della violenza di genere. Sempre più donne infatti sono vittima di violenza all'interno delle mura domestiche. L'obiettivo del convegno, fortemente voluto anche dal consigliere comunale Veronica Mondani, è stato quello di coinvolgere anche il mondo dello sport, grazie alla partecipazione di due rappresentanti della Salernitana Calcio, Emanuele Ferraro e il dirigente Alberto Bianchi.